Robin Hood del musical con Manuel Frattini nei panni dell'impavido eroe che rube ricchi per dare ai poveri accompagnerà fino a domenica 7 febbraio spettatori di ogni età al Teatro Pirandello di Agrigento tra le magie e le insidie della foresta incantata. Le avventure del coraggioso ladro gentiluomo che si tramandano da oltre 800 anni di foglia in foglia da cantore in cantore approdano così sul palcoscenico del Teatro Pirandello grazie a un grande musical presentato questa mattina nel foyer dello stesso teatro. È uno spettacolo che racchiude all'interno un po' tutti gli ingredienti per divertire, per emozionare. Diciamo che siamo oltretutto in un periodo storico dove credo che il pubblico si meriti proprio di chiudere alle spalle la porta del teatro e per due ore e mezza sognare, sognare insieme a noi, insieme a questa storia che benché nota ha degli aspetti assolutamente inediti come noi ci teniamo sempre a sottolineare. Un musical, diciamo, da una storia antica che però vuole appunto andare a catturare l'attenzione, la curiosità dei giovani. È riuscito a calamitare tantissimo entusiasmo, partecipazione. Robin e Marianna, avventori, banditi, popolani, dame, ancelle e servitori, sono i protagonisti di questa leggenda senza tempo che vuole raccontare come un uomo può diventare un eroe. Per lo spettacolo i biglietti sono in vendita al botteghino del teatro dalle 10 alle 13, dalle 14 alle 18 e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, mentre sono già in funzione la biglietteria del Sistante, Sita in via Platone e quella del box office di via Cicerone dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e 30.